Diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano nel 1993, si perfeziona attraverso workshops di recitazione, di voce e scrittura in Italia e all'estero. Su queste basi ha costruito un curriculum variegato, in cui è presente innanzitutto il teatro, dagli autori classici come Pirandello, L'Uomo, La Bestia e La Virtù, Shakespeare, Lady Macbeth, e Anton Chechov, Il Gabbiano, ad altri più recenti come Edward Albee, Zoll Story, e Albert Camus, La Peste, fino a Urs Widmer, Top Dogs, e Anok Levin, un'impresa difficile. A maggio 2013 è stato Froschen e il Pipistrello di Strauss, in scena al Teatro Massimo Bellini di Catania per la regia di Michele Mirabella. Nel 2011 porta in scena New York New York, monologo brillante con sfumature poetiche. Terzo spettacolo da lui stesso scritto e diretto. Che nel 2013 sbarca a New York per un mini tour che registra un ottimo successo di pubblico e di critica. Nel cinema ha lavorato, tra gli altri, con Giuseppe Tornatore in Baria, con Roberto Faenza in Alla luce del sole e con Giuseppe Piccioni in Fuori dal mondo. In televisione alterna ruoli drammatici e brillanti. Interpretando personaggi profondamente distanti fra loro. Dall'avvocato senza scrupoli di squadra antimafia 3 al boss di tutta la musica del cuore. Dal mai cresciuto DJ nella sitcom All Stars al perfido sgro di intelligence. Dall'idealista Pietro passa l'acqua nelle due serie di Raccontami al boss Stefano Bontadene e il capo. Dei capi, è stato George Ragalan, il protagonista indiano della sitcom Sweet India ed il cabarettista drogato Luca Melisne. L'ultima battuta della serie Crimini. Nella stagione 2006-07 è stato Vincenzo nella Instant Comedia Andata e Ritorno. In Un medico in famiglia 8 era Tiziano Corradi. Il nuovo direttore sanitario della clinica. Sul versante comico, scrive e interpreta relazioni più o meno pericolose. Con Margherita Antonelli, è sotto il vestito Fotti. Inserendovi alcuni dei tantissimi personaggi nati durante il suo sodalizio con il gruppo dei. Cavalli Marci, gira il film comico musicale come se fosse amore e registra quattro diversi spettacoli per la s. Rassegna palcoscenico di Rai 2, è nel cast fisso delle prime due edizioni di Colorado Cafè. Ha lavorato in radio, con Francesco Salvi e Paolo Villaggio. Tra gli altri, e dal 2001 al 2004 è stato protagonista con i suoi personaggi su radio Kiss Kiss.